Dal 20 al 28 settembre si è tenuta la settimana europea della cultura e Torino è stata scelta come sede dell'incontro dei ministri della cultura dell'Unione Europea lo scorso 24 settembre. Nei due giorni successivi, sempre a Torino, si è tenuta la conferenza nazionale dell'AICI, l'Associazione degli Istituti di Cultura Italiani, l'insieme delle fondazioni private e delle istituzioni che si occupano di conservare, innovare e divulgare l'immenso patrimonio culturale italiano di cui fanno parte, tra gli altri, la Società di Studi Valdesi ed il Centro Culturale Valdese. Nella sua relazione introduttiva Spinelei ha detto per quanto riguarda i tagli noi abbiamo già dato, ha ricordato nei 20 anni passati un dimezzamento dei finanziamenti alle fondazioni e alle istituzioni di cultura, però ha anche proposto una strategia articolata in tre punti, ce li puoi riassumere? Sì, noi in particolare negli anni 2010-2012 quando si diceva la cultura non si mangia, perché si è detto anche questo, di botte ne abbiamo avute, quindi tra l'altro gli istituti che avevano contributi del Ministero dei Beni Culturali erano 199 e in corrispondenza a questi tagli sono scesi a 100, quindi sono veramente realtà molto dure, però non si può solo piangere e quindi io ho proposto tre cose, intanto una messa in rete, cioè il Ministero dei Beni Culturali si batta per entrare nell'agenda digitale italiana e questo ci consenta di poter mettere in rete il patrimonio di beni culturali che ciascuna degli istituti e fondazioni rappresenta. Il secondo aspetto, i fondi europei ci sarebbero, perché adesso nell'Horizon 2020 la cultura è compresa, però come sa chi si occupa di questi problemi devi anticipare una somma, fare una fiducia di uscione, senza svolgere pratiche molto complicate e naturalmente con l'aleatorietà del risultato, molte fondazioni non possono correre questo rischio e allora dei fondi o nazionali o regionali potrebbero aiutare le fondazioni a concorrere ai fondi europei e poi la terza cosa è aprire ai privati, perché il famoso art bonus introdotto in quest'estate riguarda solo le istituzioni pubbliche, non le private, ma io credo che insomma chi si associa, paga una quota consistente ad una fondazione, ad un istituto culturale avrebbe diritto a defiscalizzarlo. Due giorni di incontri, laboratori e workshop dal titolo L'Italia è cultura, alla presenza delle più importanti autorità italiane del campo. Piero Fassino ha portato il saluto della città ricordando il cambiamento di Torino da città industriale a città a forte vocazione culturale, universitaria e di innovazione. In 15 anni Torino ha perso 10 milioni di metri quadri di area industriale e li ha riconvertiti quasi tutti in centri di ricerca. La cultura è una scelta strategica e irreversibile, ha detto il sindaco. I lavori sono iniziati con la relazione del presidente dell'AICI, Valdospini, che ha salutato e ringraziato gli ospiti presenti, tra cui il direttore della stampa Mario Calabresi, moderatore delle giornate, Richard Colts, ministro della cultura della Lettonia, Antonella Parigi, assessore alla cultura della regione Piemonte, Alessandro Laterza, vicepresidente nazionale di Confindustria. Quello che mi sono permesso di dire io è che devono cominciare a guardare fuori. Se queste associazioni che fanno cultura, sono pezzi della storia italiana, hanno questo patrimonio importante, devono però aprirsi. Noi vediamo che l'Italia oggi è piena di dibattiti culturali, di manifestazioni, di festival nelle piazze. Allora la gente è interessata alla cultura, la va a cercare però per strada nelle piazze, allora loro devono essere capaci di aprirsi, organizzare cose di questo tipo ed essere in mezzo alla gente nelle piazze e lì troveranno nuove risorse, nuove energie. Il tema dell'Assemblea nazionale riguardava il rapporto dei soggetti pubblici e privati, europei ed italiani, con la realtà degli istituti e delle fondazioni. Roberto Grossi, presidente FederCulture, ha criticato l'attuale situazione italiana dell'offerta e della modalità di fruizione della cultura in Italia. Noi siamo il bel paese, abbiamo il più grande capitale culturale del mondo in termini di densità, però questo non basta più per fare creare ricchezza ma neanche per creare benessere sociale. La cultura è in funzione della fruizione, è in funzione dei cittadini, non viceversa. Quindi la legittimazione viene e deve venire sempre più dal fatto che fa bene avere un archivio ma deve essere poi funzionante, reso disponibile. Fa bene avere un museo, fa bene fare attività musicali. Nel pomeriggio di giovedì e venerdì si sono tenuti workshop tematici nei quali la Società di Studi Valdesi ha portato l'esempio del suo lavoro. La società è impegnata appunto ancora con la tavola, con gli altri istituti culturali, quali il Centro Culturale, quali la Facoltà Valdese di Teologia, in questo grande progetto di innovazione. Un progetto che ovviamente utilizza le nuove tecniche informatiche per far conoscere, valorizzare e catalogare, inventariare, tutelare meglio il patrimonio valdese. Quindi questo è un po' il progetto che noi presenteremo anche in vista del futuro portale dei beni culturali della tavola. Il patrimonio valdese e metodista è già stato in gran parte catalogato, inventariato, non partiamo da zero. In tutti questi anni abbiamo creato base dati e appunto progetti di riutilizzo, di valorizzazione. A questo punto in effetti restava un po' la lacuna di non far parte del tutto del patrimonio culturale nazionale. Nel 2013 con la firma dell'ultimo protocollo di intesa sui beni culturali, protocollo che completa finalmente la legge sull'intesa del 1984, si è iniziato un percorso con il Ministero dei beni culturali e ambientali proprio in questo senso.